Ciao ragazze, ciao ragazzi, scusate l'aspetto di questo video un po' terrificante con questi mega pixeloni, ma sono arrivato dalla webcam solo per augurarvi un fine anno spettacolare e un inizio altrettanto super, quindi voglio fare gli auguri, voglio mandare un bacione di passare queste ore liete del fine 2012 con le persone che vi sono più vicine, vi accomando festeggiate questo fine anno in modo eccellente e anche un inizio anno in modo eccellente e ci vediamo nel 2013. Ciao ragazze, ciao ragazzi.